Di nuovo tesi i rapporti tra l'assessore regionale ai trasporti Rosa Gentile e Trenitalia. Una lettera firmata dalla direttore regionale di Trenitalia, Luciano Iavarone, annuncia che la divisione passeggeri vuole tagliare dal prossimo 30 giugno il servizio di assistenza con quattro addetti alla stazione di potenza centrale, a meno che la regione abbia un interesse specifico a mantenere il servizio in questione con l'assunzione dei relativi oneri. Ma Trenitalia è interessata ad esercitare un'attività imprenditoriale in Basilicata o no? La domanda è stata inoltrata dal Dipartimento regionale Infrastrutture, allo stesso Iavarone e all'amministratore delegato di Trenitalia, Vincenzo Soprano. Non siamo assolutamente disposti ad accettare un taglio ulteriore, ha sottolineato l'assessore Gentile. La regione è già intervenuta nell'ambito del contratto di esercizio con l'attivazione di numerosi collegamenti con i servizi alta velocità su Salerno e su Napoli, oltre che nella velocizzazione dei servizi su Foggia per superire all'esigua presenza dei collegamenti nazionali. La regione è cliente di Trenitalia esattamente come i suoi cittadini che acquistano i biglietti, ma a pretendere, ha concluso l'assessore, di avere i clienti senza dare i servizi è al di fuori di ogni logica, sia imprenditoriale che politica e sociale.